Sono Vincenzo Zaccarini, rappresentante di Fratelli d'Italia al CGE. Sono 40 anni che vivo in Inghilterra, il governo mi ha nominato per la protezione del Made in Italy nel mondo. Un tema molto importante a questo governo che hanno istituito il primo ministro per il Made in Italy e i dei prodotti italiani nel mondo. La ringrazio, sono qui per lavorare per il governo. Inghilterra